Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4 potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre se volete potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games or Cover The Gamer 12 scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games e stende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde e in questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che Rockstar Games ha rilasciato per questa settimana su GTA V Online. Prima di iniziare come sempre vi invito tutti quanti a condividere il video, condividete il video è molto importante per supportare me e il canale aiutandomi così a crescere, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social. Seguitemi su almeno uno dei miei social per essere sempre avvisati appena carico un video sul canale visto che spesso YouTube non invia le notifiche dei video. Potete seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete potete anche entrare nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo nuovo evento terminerà la mattina di giovedì prossimo, ovvero giovedì 4 aprile. Iniziando dai bonus ci sono i soldi e gli arepi doppi nelle gare al bersaglio e sinceramente me lo aspettavo visto che proprio questa settimana, Di preciso martedì mattina Rockstar Games ha rilasciato come contenuto della beta di Red Dead Online le gare al bersaglio, poi ci sono i soldi e gli arepi doppi nelle 15 gare per la RSI Bandito, poi ci sono i soldi e gli arepi doppi nelle missioni Omicidio di Martin, e poi ci sono i soldi e gli arepi doppi nella modalità competizione La Miglior Difesa. Poi se effettuerete l'accesso su GTA V Online entro la fine di questo evento, sbloccherete gratuitamente la maglietta di Dier Sash Falsa, ovvero questa maglietta. Passando ora agli sconti, sconti riguardanti garage da 10 posti e altro, c'è lo sconto del 30% sulla RSI Bandito, poi c'è lo sconto del 40% sulle modifiche ai motori, su freni e manovrabilità per veicoli e velivoli, sulle livree per veicoli e velivoli, poi su verniciature, su coperture per la RSI Bandito, sul salto verticale per la RSI Bandito e i veicoli dell'arena, poi c'è lo sconto del 50% per cui metà prezzo, sui garage da 10 posti, poi sulla Dio Basha GB700, sulla Grotti Turismo Classic, sul Canis Free Clover, sulla Kuruma Blindata, sull'Ultralight e sull'elicottero Buzzard L'Assalto. Poi ci sono la gara premium e la prova a tempo, la gara premium è a secco, limitata alla categoria di auto muscle, mentre la prova a tempo è segaria. E niente ragazzi, nella descrizione di questo video lascerò il link dell'articolo di questo evento del sito Rockstar Newswire, se volete dateci un'occhiata. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social, link in descrizione, e da Orkiverd, tutto ci vediamo al prossimo video, bella!